ragazzacce e ragazzacce benvenuti e bentornati nel mio canale come va siete stati in vacanza in moto magari se sì dove me lo consigliate fatevelo sapere nei commenti perché magari ci prendo spunto per un prossimo viaggio visto che un po di tempo me lo sono liberato oggi vi porto con me e coi cavalieri da casce sul monte bondone un posto spettacolare tra l'altro vi metto il link alla pagina facebook del gruppo in modo che se avete una kawasaki volete partecipare a questi raduni potete iscrivervi non vi preoccupate se non siete della lombardia perché ogni regione ha i suoi referenti e i referenti della lombardia stanno facendo un gran bene vedete quante moto che ci sono ti 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 mommi E' il ciclista sempre testa di cazzo Dura la vita del vlogger Beep beep E le coste le abbiamo fatte Non vi ho detto il tragitto perché più o meno non lo so Però so la destinazione che è il Monte Bondone Dal quale io scenderò alle 8 di sera perché fa un caldo boia Quindi io scenderò col calar delle tenebre Inizierò a fare palletta palletta per tutte le strade del Bondone Fino a che o finisco la benzina o finisco la stamina Dunque ragazzi una cosa curiosissima Mi è sparita dalla giacca diciamo 4 stagioni Una spallina Cioè non ho più la protezione su una spallina Io non ho manco mai lavato sto coso Quindi o non c'era dall'inizio Non ci ho mai fatto caso O si è staccata nel riporlo Ma mi sembra molto difficile se si è staccato Quindi niente Devo comprare produzione aggiuntiva Ma ti pare a te E vabbè Comunque vi devo ricordare Che se casco Devo cascare sulla sinistra Cornettore che dici? Dica Ti fa male la gamba? Quale delle tre gambe ti fa male? Quella di destra Quella di destra no quella al centro? Perché io la vado a meno di stress E sto un pochino Pio daci Pio daci Sì Vai Stava a registra Bomba Ah un po' di fresco Sì Sì Chi si è preso un corpo Perché aveva visto sdraiato per terra E dice Oddio Quello si è ammazzato Beep beep Avete scannato Bravi Bravi Avete scannato Bravi Bravi E la legge E la legge E la legge Chi ha la sa legge Sono maggior Appoggio io Guarda che ti faccio male Basta che non mi appoggio la testa Sennò mi fai fare via crucis Aumento le segnalazioni Facciamo la teia calida Le sei braccia Mi odi di che prendono parte le mammelle Ma il mezzo Riprendendo solo per sapere Ma sui discorsi così Fa rosso? No E allora sta riprendendo Dicevo Così aperta arriva l'ape Ti punge e poi rimani tutta gonfia Porco di che sarebbe la volta buona Dici Allora mi apro completamente Va bene ragazzi Maledetti camper Maledetti Maledetti Pausa benzina Se siamo persi qualcuno Tipo Michela Ed altri Oh bravo Con l'ape Con l'orcavazaki Cos'è fatta la miscela E via Mi chiamo a recupero va Dai 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 ragazzi Chi so fa un altro giro La scena a salire Io Andiamo Un bel su e giù Io mi farei il su e giù Ragazzi io sono il diavolo tentatore Gli Poi Poi Chau Poi 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Le gomme calde me le fate mettere qua. Su sto suolo schifoso non me le porto a casa a sta chiaia. Fanni, me lo so divertito. Come ti trovi? La bomba. È proprio... è fantastica. Sì, perché è rifatta come quella d'origine. L'unica cosa che gli manca un pochino è l'allungo alla fine. Ed eccoci qua tornati in studio che abbiamo un divano. E ringrazio i Cavalieri di Akashi per la splendida giornata. Voi per aver visto il video fino adesso. E se vi è piaciuto mi raccomando mettete un like, scrivetemi un commento. E perché no? Magari iscrivetevi. Comunque se avete una Kawasaki andate a vedere la pagina dei Cavalieri su Facebook. Noi per questo video è tutto. Ci vediamo prossimamente. Ciao! Maravidi quanto è bello qua, quanto è bello, quanto è bello, quanto è bello. Mannaggia.